Accompagnavo mia madre. Quando ero piccolo accompagnavo mia madre, che insegnava in un istituto per ciechi. Vedevo che i bambini non vedenti disegnavano ciò che vedevano nel buio in cui erano immersi, un mondo per me del tutto sconosciuto. Poi crebbi e divenni un pittore dell'intimo. Chiudo gli occhi e mi immergo in un buio di ombre corte e di ombre lunghe, che a poco a poco diventano luce, che non ha nulla della luce terrestre. Commento. Diventano luce astrale, che è percepita dai sensi astrali e un altro mondo. Un giorno, allo strumento non vedente del cerchio K, dimostrandomi offensivamente ignorante del suo mondo, chiesi. Marco, tu come ti immagini un uomo? E lui mi rispose di getto, tu hai la sensibilità di un toro.